ciao a tutti io sono enzo di family review oggi parleremo di ioni e di questo piccolo strumento capace di misurarli per supportarmi come sempre vi chiedo di lasciarmi un like e se vi va iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma a me dà la forza e lo spirito di andare avanti e di portarvi su questo canale contenuti sempre nuovi e gratuiti ma andiamo per ordine che cosa sono gli ioni come ben tutti sappiamo l'area un miscoglio di gas tra i principali gas presente troviamo l'ossigeno la nitride carbonica l'azoto e tanti altri i gas sono elementi chimici composti da molecole a loro volta composto da uno o più atomi di un elemento l'atomo è la più piccola parte di ogni cosa esistente l'atomo è composto da un elemento centrale che è chiamato il nucleo qui ci sono delle piccole masse con carica elettrica positiva i cosiddetti protoni e da un involucro esterno formato da particelle con carica elettrica negativa gli elettroni che ruotano intorno ad esso l'atomo cerca sempre la neutralità completando la sua struttura elettronica con protoni carica positiva ed elettroni carica negativa in numero uguale esistono però alcuni fenomeni naturali come ad esempio temporali fulmini raggi solari ultravioletti che ne alterano la composizione modificando così il suo stato neutro in uno stato di instabilità chiamato per l'appunto ione ma qual è la differenza tra ioni positivi e ioni negativi uno ione è positivo quando perde un elettrone perciò l'atomo ha una carica positiva in più mentre l'ione è negativo quando si aggiunge un elettrone e quindi l'atomo ha una carica negativa in eccedenza l'area che respiriamo oggi specialmente nelle grandi città è molto ricca di gas inquinanti i comportamenti degli ioni presenti nell'area a contatto con gas inquinanti sono molto diversi tra di loro a seconda che essi siano positivi o negativi ioni positivi cercano la stabilità e tendono a creare legami con questi agenti inquinanti formando ioni più grandi e favorendo così il diffondersi di queste sostanze nell'area ioni negativi invece vengono neutralizzati o annullati dall'inquinamento ovviamente questo avviene anche per altri fattori in linea di massima possiamo quindi affermare che nelle nostre città la concentrazione di ioni negativi è bassissima parliamo di circa 50 per centimetro cubo per poi abbassarsi nettamente in luoghi chiusi come case uffici negozi raggiungendo addirittura circa 10 ioni negativi per centimetro cubo ma quali sono gli effetti che hanno gli ioni sull'uomo beh un'alta concentrazione di ioni positivi ha effetto negativo sia sulla qualità dell'area sia sul nostro corpo la loro carica influisce sugli innumerevoli impulsi elettrici che caratterizzano la nostra attività cerebrale e il nostro sistema nervoso in generale gli ioni positivi in grande eccesso nell'area sia outdoor che indoor hanno effetti debilitanti sull'uomo in quanto favoriscono un'eccessiva produzione di serotonina che è l'ormone che influenza il sonno e l'umore alterando così lo stato funzionale del sistema nervoso centrale e rallentando inoltre le funzioni immunitarie e la resistenza agli allergeni agendo sulle vie respiratorie primarie e sulle fibre nervose dei polmoni gli ioni negativi invece hanno moltissimi effetti benefici se pensiamo ad esempio all'area che respiriamo in montagna o al mare non solo è migliore grazie all'assenza di inquinamento ma anche all'alta concentrazione di ioni negativi parliamo di circa 1500 su centimetro cubo in montagna ad esempio gli ioni negativi ripuliscono l'aria migliorando la respirazione aumentando la capacità polmonare e dando sollievo in caso di allergie ed asma inoltre aumentano il livello delle difese immunitarie e riducono la tendenza al raffreddore e all'influenza perché sono in grado anche di uccidere i batteri a differenza di quelli positivi che si legano ad essi sebbene la ionizzazione dell'area sia obbligatoria in molti ospedali e luoghi di lavoro europei in italia è stata presa in considerazione solo di recente a causa del crescente problema della tossicità dell'area presente negli ambienti urbani il progressivo inquinamento dell'atmosfera infatti ha dato luogo all'insorgenza di un'ampia gamma di processi patologici correlati alla variazione della componente ionica dell'aria caratterizzata da un notevole incremento degli ioni positivi per esempio il riscaldamento centralizzato il condizionamento dell'aria il fumo e i campi elettrici abbassano in modo significativo il numero di ioni atmosferici senza contare l'aumento della produzione di ioni positivi causato ad esempio dai campi elettromagnetici dei ripetitori e dai trasmettitori tutto ciò comporta uno squilibrio ionico nell'aria e un incremento di radicali liberi nell'organismo ecco quindi entrare in gioco l'ionizzatore che grazie alla sua azione ristabilisce il giusto equilibrio ionico nell'aria ma che cos'è uno ionizzatore lo ionizzatore è sostanzialmente un dispositivo che utilizza varie tecniche disponibile in modo artificiale ovviamente per produrre ioni la maggior parte degli ionizzatori producono esclusivamente ioni negativi molto spesso nei dispositivi di purificazione dell'aria attualmente in commercio troviamo anche incorporato all'interno uno ionizzatore come in questa macchina che vi porterò a breve sul canale vediamo adesso le caratteristiche e il semplice funzionamento di questo strumento il modello è il kt401 le dimensioni sono 78 x 27 x 9 millimetri il peso è di circa 89 grammi nella confezione troviamo lo strumento e quattro batterie lr44 aggiuntive in più un laccio da polso per ottenere una misurazione più accurata il misuratore possiede un display lcd ben visibile che permette un'ottima lettura il range di misurazione del tester è compreso tra 10.000 e 20 milioni di ioni a centimetro cubo sia che essi siano positivi che negativi l'alimentazione è composta da due batterie lr44 da 1,5 volts già installate in più abbiamo altre quattro batterie di ricambio in dotazione adesso faremo un piccolo test con questo strumento su un purificatore d'aria che al suo interno anche uno ionizzatore lo strumento va tenuto con due dita cercando di non coprire la parte metallica posteriore per non falsare la misurazione in più è possibile aggiungere il laccio al polso e collegare l'altra estremità su un conduttore metallico per avere una lettura ancora più accurata come possiamo vedere partiamo da una misurazione pari a zero come accendiamo il purificatore con l'ionizzatore attivato iniziamo subito a rilevare la presenza di ioni negativi ovviamente più ci allontaniamo dall'ionizzatore e più la concentrazione di ioni tenderà a scendere per poi azzerarsi spegnendo lo ionizzatore se questo video ti è stato utile lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale youtube grazie e al prossimo video ciao ciao